Con 8 pareggi su 10 gare si sarebbe tentati di dire che non è successo niente. Tuttavia il Como che state vedendo, il Vicenza e la Spalla, il Pari, lo hanno fatto a Pistoia, a Bari, a San Benedetto del Tronto, il che è importante e può contare per il futuro, così come possono contare in coda gli altri pareggi esterni, specialmente quelli del Taranto a Bergamo e del Matera a Verona. La fatica di vincere l'hanno fatta soltanto il Monza nel derby col Brescia e il Lecce, che ha stoppato la marcia del Pisa dopo una vivace rincorsa. Il Como a Pistoia è riuscito a bloccare la grande esperienza dei vecchi assi che formano la Pistoiese. Vi daremo ora 12 dei 16 gol segnati oggi. Ecco quello del Pistoia, primo tempo dunque, la Pistoiese, rimessa laterale, rovesciata di Saltutti, le spinte di Virkowod che Guidolin manda in rete. Riprese il Como, sul calcio d'angolo, svetta la testa di Serena, sostituto di...